Messi ti prego ti offriamo 100 milioni l'anno ad ascoltare queste mezze seghe mio signore noi siamo la tua famiglia, resta con noi contratto di 460 fantamilioni più la tua casa non in piazza Domo la tua casa sarà il Duomo ti prego di odi il cancio unisciti a noi c'è anche il tuo fratellino Neymar che è triste in questo periodo, piange sempre la Champions ho deciso andrò al Benevento sono incredibile